Ok, io adesso tento di fare una provata, ok? Oh cazzo Oh allora, vieni a vedere No, io adesso mi butto con la granata impulsi e non devo morire What? Ce l'ho fatta! Eeeh, io ho un problemino Eh, buttati qua, ti lancio la granata impulsi No, no, non ce la voglio, non ce la voglio No, 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 oh, ho un bel loot, non voglio morire così Dai! Cerca di salire Che palle E come? Ma aspetta, come? Eh, fai tipo, fai grattacielo, fai grattacielo verso di me Ah, oddio sotto Sono stra-buggato, ti prego Inizio, spreca tutti i materiali che hai, ecco cos'è, bravo E' finito Ma come? Oh, sei pronto con la granata? Si What? Era giusto? No, mi sa pure suicidato Però era giusto, praticamente E' finito E' finito E' finito E' finito E' finito E' finito